Oggi mi trovo nella scuola primaria di Vernone, in provincia di Lecce, per partecipare a un corso di avviamento di un metodo veramente innovativo. Scopriamolo insieme. Buongiorno bambini! A voi piace lo sport? Sì, lo gioco! Anche a me! Vi piace muovervi? Sì! Perfetto, allora, per chi non mi conoscesse proprio bene bene, io sono Massimiliano, Massimiliano Rosolino, e ho iniziato a fare lo sport dalla vostra età, perciò tanti anni fa, tutto per gioco, ho iniziato a fare il nuoto e non mi sono mai stufato, quindi ancora adesso, dopo tanti anni, mi gioco e mi diverto così, anzi cerco di trasmettermi la stessa cosa. Bambini, cerchiamo di conoscerci un pochettino meglio. Iniziamo da te. Io penso del movimento che sia molto importante perché ti puoi divertire. Muoversi significa divertirsi, significa provare dei sentimenti che non si provano stando fermi. Ragazzi, mi sono vicino allo sport più o meno alla vostra età, 5-6 anni, e ho iniziato col nuoto perché adoravo andare in acqua, al mare, nella vasca da bagno. Lo sport mi ha insegnato un sacco di cose e io penso che sia importante praticarlo dalla vostra età, se non ancora prima, e non di smettere mai. Ti aiuterà a concentrarti, a condividere delle emozioni, no? Il fatto di muoverci tutti quanti insieme, il fatto di rispettare delle regole, di rispettare i nostri avversari. Per voi è molto importante studiare e unire ovviamente quella con lo sport, perciò la pratica scottiva. Ragazzi, vi va di scoprire insieme a me la gioia del movimento? Sì! Lo vogliamo fare tutti insieme? Sì! Allora seguitemi! Kinder più sport è un progetto di responsabilità? Bravissime del gruppo Ferrero, che è l'obiettivo di portare la gioia del movimento nella vita di ogni bambino. In collaborazione con autorevoli partner istituzionali, esperti dell'età evolutiva sarebbe di voi che crescete, ha messo a punto un metodo innovativo che si chiama Joy of Movi! Ma siete eccezionali! Un modello educativo sportivo è in grado di portare un'evoluzione importante nel mondo dell'educazione, proprio tramite che cosa? L'asporto! L'asporto ragazzi! Cari docenti, Caterina e Sofia sono esperte trainer del metodo Joy of Moving e insieme cercheranno, un po' in teoria ma soprattutto in pratica, di coinvolgervi in questa iniziativa fantastica. Il Joy of Moving è un metodo educativo nuovo e coinvolgente, basato sulle esigenze dei bambini. I bambini infatti dovrebbero praticare differenti discipline sportive e non una singola attività. Proprio per questo il metodo Joy of Moving è un approccio educativo basato sulla multidisciplinarità e sulla variabilità degli esercizi legati proprio al movimento. Si tratta di un'iniziativa di alfabetizzazione motoria unica nel suo genere, che si fonda su giochi basati sullo sviluppo motorio, cognitivo e sociale del bambino, al fine di accrescere le abilità di vita dello stesso. Joy of Moving! Oggi li abbiamo visti lavorare in maniera differente, soprattutto li abbiamo visti molto uniti. Ci siamo divertiti noi figurarsi bambini. Una scuola in movimento sicuramente, un nuovo modo di promuovere l'apprendimento nella scuola primaria. Le lezioni di educazione fisica saranno più divertenti per me e per gli alunni. Credo proprio che sia un metodo efficace. Grazie per la visione!